Ok, è arrivato il momento della prova del 9 Qua siamo su Brawl Stars Tastino magico Qui siamo su Brawl Stars Ma siamo seri? Ehi là gente! Benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati su Brawl Stars Quello di oggi è un video un pochettino diverso dal solito Ho ricevuto questi da Nubia Un'azienda che produce smartphone da gaming Eh sì, mi hanno mandato non uno ma bensì due telefoni Uno è una novità molto particolare che vediamo dopo E un altro è il loro nuovo device per il mobile gaming vero e proprio Pensato per il gaming E guardate un pochettino come presenta la scatola È molto molto figo il telefono Non vuole essere troppo un unboxing in questo video Ma insomma, vediamoli Ma quanto mi sento di akidale in questo momento Togliamo un attimino questo giocattolino Allora, abbiamo delle scatoline dentro la scatola Molto intuitive con dei disegni sopra che fanno subito capire Qua ci sta un cavetto Qua ci sta un trasformatore E qua ci stanno i libretti di istruzione Troviamo anche degli adesivi con il libretto di istruzioni E la classica chiavetta per mettere la sim Si vede tanto che sono un po' rugginito con gli unboxing Non riesco a chiudere una scatola, dai! Vabbè, qua su queste non c'è da dire molto Cavo di ricarica con trasformatore Ricarica rapida supportata Continuo ad avere problemi gravissimi con queste scatole, mamma mia Mi stanno facendo girare le scatole E tra l'altro il cavetto, ragazzi, sembra anche realizzato con dei buoni materiali È molto solido Ah, piccola premessa Non mi hanno pagato per fare questo video È veramente un'azienda che mi ha mandato i telefoni per provarli e basta Quindi non sono costretto da nessuno a parlarne bene, ragazzi Semplicemente Ragazzi, sto facendo dei danni E poi è la prima volta che mi ha contato qualcuno E non è che mi dice ti mando un prodotto così da provare, no Mi dicono ti mandiamo tutto Anche perché, come potete vedere, non è proprio una cinesata È un bel telefono, anzi costa anche tipo sui 500 euro se non ho visto male E ha un paio di cose molto fighe Allora, sotto questa bella scocca ci sta uno Snapdragon 855 Plus Un buon sistema di raffreddamento, ragazzi Una batteria che lo fa sentire anche in mano, ragazzi C'ha il suo peso da 5000 mAh E quella che vedete qui è una fotocamera da 48 megapixel Che va in combo con quella da 16 frontale E un display da 6.6 pollici Che ho già riempito di ditate Benissimo, bravo Ferre No ragazzi, ditate a non finire Ma non avete ancora visto l'altro telefono Poi vabbè, c'ha il tastino qua Di blocco, stile iPhone Molto carino Ha i trigger, ragazzi Questa è veramente una figata Poi ha dei led Adesso qua non si vedono ancora Ma dopo dovrebbero partire E una doppia cassa Quindi audio stereo Vibrazione 4D Non so bene cosa sia Ma probabilmente dà un feedback particolare quando si gioca E poi ragazzi è veramente molto grande Sembra anche molto comodo Un telefono da gaming fatto e finito ragazzi Oh mio dio che cosa ho fatto a questo povero display Mi dispiace Dove è un pannetto per pulire Ok allora Smanetandoci un pochettino Mentre scarico Brawl Stars Ho scoperto una cosa molto figa Questo tastino Non è Magari come su iPhone Il tastino Per mettere e togliere il silenzioso Ma è il tastino Per entrare o uscire Dalla modalità gaming Allora vi faccio vedere Lo sfondo Se io tocco questo tastino In teoria Ok Parte L'effetto sonoro è bruttissimo Però parte Questa schermata Dove ci sono tutti i nostri giochi salvati E probabilmente entrano in gioco anche Sistema di raffreddamento E eccetera eccetera Come ad esempio i led Che sono questi qua Vedete Molto molto semplici Però praticamente Ho questa sorta di libreria Dove posso andare a Selezionare E prendere un gioco In questo caso C'è solamente Brawl Stars Quindi seleziono quello E lo va tipo a Ottimizzare Ok vedete Praticamente mi ha inserito Brawl Stars Nella libreria Da lì lo vado a inserire E L'audio ragazzi Probabilmente col microfono Non dà tanto l'idea Ma È È un'altra cosa Sto giocando di proposito È senza 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 mostrarvelo A schermo Prima tra l'altro Ho avuto modo anche Di provare la vibrazione Scrivendo E in effetti Ha un qualcosa di diverso Però questa vibrazione 4D Onestamente Non l'avevo mai sentita Ok In teoria adesso Dovreste vedermi Allora in pratica Io su questa schermata Che è quella Che vi mostrano prima Di gaming Posso Comandare L'utilizzo Della ventola Che tra l'altro Fa un lieve rumore Devo dire Ma Fa un'aria Della madonna Ragazzi Cioè vi giuro La si sente Con la mano Si possono togliere I led Se qualcuno Non vuole fare Il consumista E si possono bloccare Le telefonate Con questo tastino Tra l'altro Volendo uno Può anche Modificarsi L'immagine Di copertina Tipo così Fico Molto fico Beh Che dire Qua io quasi Non vado a sfruttare Al 100% Perché Ragazzi Non c'ho Cioè c'ho C'ho i trigger Ma Trigger Scusate Ma non si possono usare Su Brawl Però Non è per niente male Davvero Comunque Non vorrei rovinare il momento Ma Rinscatoliamo lo zio Così non rischio di rovinarlo Sicuramente Dopo me lo guardo con calma E appunto Passiamo Al fratellino Sempre nubi Ragazzi Modello Z20 Andiamo subito a vedere Perché questo è veramente particolare E soprattutto capirete il perché Del titolo di questo video Allora Scatolina Esattamente come Abbiamo visto prima È molto intuitiva Con il disegno dei libretti L'unica differenza È che qui ragazzi Io ho già sbirciato C'è in dotazione una cover Che però è molto strana Perché è praticamente Una sorta di doppia cover Infatti questo telefono Non può avere Propriamente delle cover Ma servono delle Diciamo Pellicole touch screen Perché Questo è veramente Super facile Dare in piedi Impronte Ragazzi Questo è un telefono Con doppio display Sì Non ha le fotocamere Anteriori Perché ha solo Quelle posteriori Tra l'altro Tripla E ha lo schermo Sia sulla parte Frontale Come tutti i telefoni Sia dietro Sotto le fotocamere Sì lo so È un po' un trip Questa cosa Ma è veramente Una figata Allora Vi faccio vedere Il giusto resto La confezione Prima C'è un'altra scatolina Anche qua Con il simbolo del cavetto Del Trasformatore E un disegnino in più Che lascia intuire Un adattatore Che sarebbe Questo qui Per il jack Sì Non ha il jack Per le cuffie A differenza di quello Che abbiamo visto poco fa Ha infatti solamente La tacco per la ricarica Ovviamente Sono entrambi Gli smartphone Tipo C E queste due tacchette Che Sapete cosa sono? Sono Le doppie Impronte digitali Sì Non ha solamente L'impronta digitale Da un lato Ma anche dall'altro Perché io lo posso utilizzare In entrambi i lati Quindi devo avere L'impronta digitale Da entrambi i lati Wow Accendiamolo Tra l'altro Da che lato si accende? No Solamente a quello frontale Ok È praticamente un full screen Ragazzi È una bomba Wow E mentre comincio A pulire le meditate Ragazzi Veramente Mi sento Le mani Peggio di Un untore Ma anche qui Parliamo un po' Di specifiche Ragazzi Il processore È lo stesso di prima Snapdragon 855 plus Un coperto fotografico migliore L'abbiamo detto Tripla fotocamera Con la funzione Per le foto notturne Le altre fotocamere Dovrebbero essere Una zoom Per 3 E uno super zoom Per 30 Poi ragazzi 3D touch Che rileva la pressione Always on display Quando non lo utilizziamo La cosa figa Del always on display È che ovviamente Ce l'abbiamo Da entrambe le parti La cosa figa È che lui riconosce Col giroscopio Se lo utilizziamo Da questo verso Si attiva Questo schermo Se lo giro Lo blocco E lo sblocco Riconosce Che lo sto usando Dall'altra parte Quindi si attiva L'altro schermo direttamente L'altro E rimane spento Anche se può sembrare Un po' scomodo La vera figata Di avere Lo schermo In entrambe le parti È che Non hai fotocamera Anteriori Quindi davanti Hai lo spazio Per occupare Tutto lo schermo Tutto il vetro Con il display E da dietro Hai la possibilità Di farti i selfie Con la fotocamera Posteriore Tanta roba Ci sta anche Un tastino Qua che mi permette Semplicemente Cliccandolo Di passare Dall'altro lato Ovviamente Che cosa Vorrò mai fare Io con un telefono Che ha una Particolarità Del genere Capire Capire Di far passare Il tocco Oddio Non lo so Comunque passiamo Alle cose serie Stesso discorso di prima Non sto volontariamente Registrando lo schermo In questo momento Perché voglio farvi vedere Un pochettino Com'è In mano Ovviamente L'esperienza di gioco È molto migliore Sull'altro Perché avevamo Banalmente L'audio stereo Su due casse Che qua invece Non c'è Ho solamente una cassa E si sente Soprattutto Per me Che lo sto sentendo Dal vivo E già il secondo tutorial Che mi faccio oggi Ragazzi Comincio a Non sopportarlo più Non ci vuole Di fare dei tutorial Dai basta Basta Ok È arrivato il momento Della prova del 9 Qua siamo su Brawl Stars Tastino magico Qui Siamo su Brawl Stars Ma siamo seri Ma si riesce a giocare Da sto lato No che poi c'è anche Un altro problema Esattamente Se provo a registrarvi Lo schermo E farvelo apparire Il programma Che utilizzo Come fa Può passare Da uno schermo All'altro C'è solo Un modo Per scoprirlo Ok allora Dovendo essere su Brawler Ragazzi Provo a invitare Un attimino Zack Perché giustamente Adesso Si gioca sul serio Mettiamo Due showdown Io metto Un Brawler bassissimo Che anche se droppo Non è un problema Tipo Spike E mentre gioco Per la felicità di Zack Provo a girare il tutto E vedere Uno se continuo a registrare E due Se effettivamente Si può fare questa cosa Allora Mi spara flash Due colpetti Lì E gli do una mano A raccogliere Sti power up Adesso Mi faccio Un'uscita Dall'applicazione Pigeo il pulsantino Giro il telefono Riapro Brawl Ok E in teoria Funzionare funziona Ragazzi Io sto riuscendo a giocare È una cosa stranissima Perché È tipo Giocare a Brawl Ma con uno schermo Più piccolo Perché Ci deve stare Anche la fotocamera Va bene Zack Nel frattempo Tutto ciò è morto Quindi chissà Quanto l'ho fatto penare Poverino Però Oh Quarta posizione Abbiamo già Non abbiamo mica fatto Il peggio del peggio Penso a quelli Che hanno perso Contro di noi Che stiamo Stiamo arrivando già a quarti E stiamo facendo Degli esperimenti Del genere Penso che le cose Possono essere andate In due maniere O Ha funzionato E quindi mi state Vedendo giocare Effettivamente Oppure Non ha funzionato E tipo sto parlando Da solo E diciamo Non funziona Proprio Molto bene Questa cosa Beh Sappiate che Comunque È strano È strano E soprattutto È scomodo Sicuramente Non è consigliata Per i gaming Questa cosa Perché Mi è scappato Di aprire Una mega cassa Vedete che È in un punto Dove Si può toccare Facilmente Non è in un angolo Che dice Vabbè Comunque Ci sto attento E ci sto attento No È qua Alla fine della fiera Girando Ti può scappare Adesso sono tornato Sulla schermata principale Chissà se starete Continuando Vedere la registrazione E Nulla Questo è quanto Cioè Sono due telefoni Fighissimi Questo è lo schermo Da entrambi i lati È una roba particolare Invece L'altro È proprio Considerato Per il gaming Ma Io onestamente Lo sfrutterei Relativamente Perché Magari Per quei player Che giocano Tipo a PUBG Poi magari Off camera Mi metterò lì Con calma Proverò a scaricarci Cosa ne so Appunto PUBG Call of Duty Mobile Qualche gioco Per provare E insomma Spero che Vi sia piaciuto Grazie ancora Nubia Per avermi mandato Questi due modelli Ragazzi Noi ci vediamo Alla prossima Ovviamente Oggi pomeriggio Con una live streaming O domani Con un nuovo video Ovviamente Non dimenticate Di iscrivervi Campanellina Pollicione E codici ferre Nello shop Un saluto Ciao ragazzi